nell'episodio precedente ci aspettano 180 chilometri circa di tragitto guarda che cambi cosa c'è che non va ti fa male d'orgale adesso ci siamo paesaggio bellissimo però vero mamma mia che strada che abbiamo fatto guarda sono partito mezza sonnato ma svegliato sta strada andiamo verso d'orgali e da d'orgali arriviamo a calagonone iscriviti al canale iscriviti al canale allora piccola sosta siamo praticamente arrivati ad orgali siamo a 20 minuti giusto per cambiare la batteria perché mi si è scaricata poco prima e ogni volta ultimamente la batteria si scarica poco poco prima di arrivare nei posti siccome dovrebbe esserci un bello scorcio di mare allora almeno almeno cambiamo la batteria vediamo se riusciamo a riprendere qualcosa già abbiamo perso un pezzo bellissimo siamo passati su un ponte sopra un lago fantastico e ce lo siamo perso completamente e quindi niente magari quello lo prendiamo al ritorno se riprendiamo qualche cosa ho già bruciato tre batterie su cinque ragazzi e comunque ormai siamo arrivati manca poco spero si sia vista abbastanza strada perché veramente sono stati dei tratti di strada fantastici orientale sarda grande 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 strada e beh un tratto di curva della madonna sicuramente almeno un asfalto della madonna so so che questa strada è un asfalto bellissimo quindi almeno per quello dovremmo andare abbastanza tranquilli e siamo ad orgali da qua tutta discesa fino a calagonone praticamente siamo arrivati andiamo piano per goderci qua questo scorcio mamma mia che spettacolo guarda la di qua ecco adesso dovremmo vedere il mare ma male è freddo qua dentro madonna così è bello dalle montagne attraverso le montagne vedi il mare perché non lo vedi siamo passati attraverso la montagna guarda la ma siamo passati attraverso la montagna e abbiamo visto ma infatti ha detto cazzo ma qua non si vede niente cioè no guarda la che bomba ma hai visto dove siamo spettacolo che spettacolo dai siamo arrivati eh perché non vedevi il mare eh questi posti qua quando ci vai lo vedi sempre all'ultimo eh è tipo la scala piccata ma ma questo doveva stare qua davanti adesso non c'è un'area di sosta per fare una panoramica ma guarda 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 che tornante che c'è là eh guarda qua che tornantone ahaha calagonone oh signori benvenuti a calagonone mamma Beh direi che possiamo rallentare il passo Cerchiamo un posteggio Magari andiamo anche tra un pochino a fare il check in hotel Guardate là che spettacolo Mamma mia Cioè Strada bella Particolarissima E la verità ci siamo un attimo preoccupati Perché insomma ci vedevamo arrivare sul navigatore Ma non vedevamo il mare Poi caspita ti trovi questo tunnel davanti Attraversi la montagna Passi proprio dentro la montagna E sbuche il mare Cioè siamo a Calagolone nel Golfo di Orosei Guardate che spettacolo Mamma mia Adesso intanto andiamo in hotel Facciamo il check in E poi vediamo di informarci per queste grotte Al porto insomma Eh C'è una pastiggeria aperta là Ti facciamo merenda dopo Io ho tanta paura di non trovare posto per la moto Il nuovo gabbiano eccolo qua Ah Eh cazzola Di quale moto dobbiamo metterle Sì devo fare il giro Adesso facciamo il giro Qua No aspetta Scendi sì Scendi scendi Siamo arrivati Allora siamo finalmente arrivati in hotel Questo chiaramente sono io stanco Quindi questa è la camera Non è grandissima Ma poi raccogliente È molto profumata Stefania che inizia a disfare i bagagli A mettere qualcosa nel frigo Abbiamo una vista a balcone Da questa parte Che non so se riusciamo a vedere dopo Comunque questa è la camera TV Questo è il bagno Completo e tutto quanto Ciao Mamma mia finalmente ce l'abbiamo fatta Ehm Allora praticamente abbiamo tutto A portata Nel senso che Noi domani volevamo andare a visitare Le grotte del Buemanino Praticamente noi scendiamo giù dall'hotel Il traghetto parte praticamente Da qui davanti all'hotel Abbiamo il parcheggio Tranquillo per la moto Ci tengono anche i bagagli Meno male Nel mentre che andiamo a Fare la visita alle grotte Perché comunque Dobbiamo arrivare alla camera Ma a noi ci tengono i bagagli Finché noi poi non ripartiamo eventualmente Quindi 10 per questa cosa Adesso ci facciamo una doccia Per lo meno io Perché ho fatto una sudata pazzesca E poi magari mangiamo E ci facciamo un giretto qui Intorno Bau E qui è dove siamo Questo è il piccolo balcone Di Calagonone Allora da qui Non si vede molto bene Perché comunque Tutta la parte bella del mare È dall'altra parte Dunque magari dopo Prenderemo uno scorcio Siamo abbastanza stanchi Adesso Ci rilassiamo un attimo Mangiamo E poi magari usciamo A fare un giro qui della Basta Poi vediamo un po' come finisce la serata E vedremo domani Non so se sarà possibile Domani fare le riprese Alle grotte del Buomarino Però vedremo un attimino Se è possibile A fare qualcosa Cercheremo di fare anche Qualche ripresa Stiamo passeggiando per il lungomare Di Calagonone Il nostro hotel Esattamente da quella parte Guardate qua che spettacolo Qui si vede La spiaggetta di Calagonone Adesso Già qua siamo al tramonto Ma Sono sicuro Che qua la mattina Con un sole Battuto Qui sopra l'acqua Deve esserci un mare Fantastico Signori Veramente Veramente Un bel posto E qua non si può filmare Guardate qua che pacco di moto Guardate qua che pacco di moto Siamo giunti finalmente Alla fine di questa giornata Per me è lunga e pesante Perché non sono abituato Chiaramente da novizio A questi viaggi in moto Insomma Ma voi siete tutte suonate Cucu Ok intanto Stefania parla con le sore Con le comari Dicevo Non sono abituato Da novizio A questi viaggi in moto Comunque Esperienza Decisamente nuova 100% positiva Insomma Siamo andati qua Ci siamo rilassati C'è nato Un bel giro anche di Calagonone Nel lungomare Strepitoso Sarà veramente difficile Andare via da qua domani Comunque La giornata di oggi È finita Domani Ci sarà il rientro a casa Probabilmente Andremo anche a vedere Nelle grotte del Bue Marino Dovremmo riuscire a vederle Vediamo se Cosa riusciamo a tirare fuori Comunque Per oggi È tutto Se il video ragazzi Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Mi raccomando Attivate la campanella Perché altrimenti YouTube Non vi manda i feed E seguitemi Su Instagram Alla pagina Nico24 0286 E sul gruppo Telegram Motovlogging Dove ragazzi Posterò Ogni volta Che esce un video Perché ripeto YouTube Non manda le notifiche Alla prossima Un salutore Ciao Ciao No puedo parar Si el ruido va bien Va a molestar Empuja un poco más Que empiece a pillar Velocidad Vale